Notte di terrore in una villetta indipendente a Lucrezia, in via Pilone. Tre banditi hanno immobilizzato prima e rapinato poi, con la minaccia di un coltello, la famiglia Paolini e Santi, madre e due figli, alle due della notte scorsa. Il racconto della signora Laura, 71 anni, è lucido ma nei suoi occhi. Ancora si legge la paura e lo spavento appena passati. Se li hai ritrovati sopra di lei, che tentavano di immobilizzarla, svegliata dalle urla del figlio che stava subendo la medesima sorte e che dorme in camera con lei. Erano due furie, ci racconta con gli occhi sgranati. Uno sembrava il demonio e ho gridato, lascia stare lui, prendi me, prendi me, lascialo stare, lascia mio figlio. Ma di demoniaco in quel momento non c'è nulla. Ci sono solo tre banditi in casa che frugano dappertutto, alla ricerca di soldi ed oro. Per introdursene alla palazzina hanno prima tentato di forzare una delle finestre esterne della casa, ma poi hanno deciso di entrare dallo scantinato della villetta, calandosi in una bocca di lupo e poi sono saliti nelle camere da letto. Anche l'altro figlio, che dorme al piano di sopra sentendo le urla, è sceso in soccorso, ma ha subito la medesima sorte. Con la minaccia di un coltello si fanno consegnare la chiave di un cassetto del Comò e li trovano il tesoretto, con tanti e oggetti d'oro per svariate centinaia di euro. Ma prima di andarsene terrorizzano ulteriormente madre e figli, rannicchiati tutti nello stesso letto, ordinandogli di stare zitti e di non urlare, sempre sventolandogli sotto il naso la lama del coltello e di non muoversi e non seguirli. Laura e i suoi due figli rimangono lì per una mezz'oretta, immobilizzati dal terrore, ma poi verso le tre si sono decisi a chiamare i carabinieri, che ora, sotto la guida del capitano Alfonso Falcucci, indagano sulla rapina in stile arancia meccanica. Grazie.